Come si dice? Come si dice in tedesco? La traduzione letterale è Wie sagt man, ad esempio, cavallo auf Deutsch? Oder Was heißt cavallo auf Deutsch? Piccolo spoiler, Pferd. Un pochino più strutturato. Wie kann ich cavallo auf Deutsch sagen? Attenzione qui alla declinazione dell'aggettivo. Was ist das deutsche Wort für cavallo? Se dobbiamo fare il contrario, ovvero chiedere cosa significa una parola tedesca in italiano, Was bedeutet Pferd auf Italienisch? Was heißt a presto auf Deutsch? Bis bald!